musica 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 ragazzi vi ricordo qualora vi facesse piacere di darmi una mano per ritornare dove ero sapete la solita filastrocca sono ripartito da cale da capo con un canale nuovo siamo già a 5.000 rotti in sei mesi grande risultato però ero molto più su se vi fa piacere è un clic gratis iscrizione al canale e campanellina altrimenti va bene uguale non ci sono problemi file care center anche per i giornalisti ascoltate perché poi parlate di fanta finanza parlo in generale e poi ci chiamate per avere informazioni sugli arabi all'inter perché è tutto dimostrabile quello che sto dicendo no qualcuno mi potrebbe querelare inutile vi parlate di fanta finanza e poi chiamate noi per capire cosa sta cosa sta succedendo guarda balbetto anche stamattina perché questa osa qua soprattutto per chi parla di americani è giusto che comunque venga sottolineata perché secondo me è passata un po' nel dimenticatoio visto che si tratta di un articolo di ottobre di un mese fa non di quattro anni fa allora io vi vado a condividere lo schermo vi vado a condividere lo schermo ok file care center stima nella posizione è un centro di studi con sede ad istanbul ci siamo ok relazioni tra arabia saudita e iraq le conseguenze della scena politica in tunisia e via discorrendo loro parlano un po' di tutto ma veniamo a noi veniamo a noi fa i care center fa i care center fa i care center fa i care center investimenti del golfo nei club europei effetti e sfide è un centro studi che parla dell'arabia saudita fa i care center 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 il centro tiene un simpolo politico di talebani e ritorno in afghanistan parlano un po' di tutto degli investimenti in generale in generale di quello che accade qui abbiamo gli esperti del centro risottolineiamo l'arabo non lo conosco ancora l'arabo non lo conosco l'arabo non lo conosco squadra centrale vi faccio vedere se non il signor adnan aldara i abdul karim al ubaishi bene meno rimane tutto agli atti sulla mia montagna unità di studi e ricerca unità di studi e ricerca sono tutti quelli che fanno eh le ricerche e gli studi ok ok scorro più piano sì va bene non ci sono problemi non ci sono problemi ancora ti esperti del centro dottoressa ebba raouf e zat zaccaria accorciò hamed hoizal hamed mohafak zidane mi assomiglia un po' al zidane abdul vabbè tutti i vari esperti del centro studi specializzati vedi giornali politici del mondo saudita mi segui fai care center fai care center anche per i giornalisti fai care center ragazzi non mandate whatsapp telefonate informate mail fai care center fai care center e veniamo a noi fai care center fondi sovrani del golfo un processo di sviluppo e posizionamento globale vedi questo è datato trenta ottobre venti e zero sei fai care center il fondo per gli investimenti pubblici questa è una loro relazione il fondo ovviamente il fondo per gli investimenti pubblici leggiamolo insieme ragazzi abbracciamoci coccoliamoci il fondo per gli investimenti pubblici è interessato all'acquisto di importanti vuote di società sportive europee un po' quello dicevano al report l'altra sera sul re tre no che parlavano dei fondi sauditi questa politica di investimenti pubblici all'estero conferma l'orientamento dei dei decisori sauditi verso campi in investimento basati su rischi e cambiamenti negli ultimi anni segui bene il fondo sovrano saudita ha scommesso su alcune squadre di calcio europee come newcastle united che possedeva l'ottanta per cento per un valore di circa quattrocento nove milioni di dollari nell'ottobre duemila ventuno il governo saudita ha anche discusso e negoziato sul corso del duemila ventuno con gli ufficiali dell'inter italiana qui dicono loro fallita per le ripercussioni della pandemia del covid diciannove e il colosso cinese nel campo delle tecnologie su ling ha voluto vendere la sua partecipazione nel club stimato al sessantotto punto cinque per cento per un valore di un miliardo di dollari nonostante le differenze di prezzo questo è importante nonostante le differenze di prezzo metodi di valutazione del debito quattrocento milioni di dollari e del patrimonio netto l'operazione per l'acquisizione del club italiano è avvenuta a fine dicembre duemila ventuno lo scrive un centro di studi che si occupa dell'arabia saudita non lo dicono gli esonerati tramite delega ad una società controllata quindi lui loro dicono che una società al veicolo dp fa acquisito l'inter quello che stiamo dicendo noi da una vita al fine di evitare i problemi legati all'unione europea che impediscono l'acquisizione di due squadre partecipanti alla lega europea contemporaneamente quello era un po' quello diceva bellinazzo l'altro giorno dimenticandosi del salisburgo e dell'altra squadra che giocano in champions con lo stesso proprietario inoltre il regno dell'arabia saudita sta lavorando per trasformare lo sport e altri campi correlati in una fonte vitale per ottenere entrate finanziarie aumentare il pin e ti spiegano anche perché comprano l'inter cioè chi compra l'inter non può essere un fondo non poteva essere un fondo speculativo l'inter la comprano perché l'inter è un trampolino per arrivare da altre parti questi investimenti saudite all'estero che te lo spiega contribuiscono a trasformare il regno in una forza di grande popolarità e accettazione da parte dell'opinione pubblica internazionale capito perché hanno preso anche l'inter non hanno preso l'inter per guadagnare non gliene frega nulla a loro di guadagnare sull'inter oltre a fornire elementi di soft power ma allo stesso tempo gli investimenti sportivi sono diventati un'altra area del conflitto geo strategico del golfo l'operazione della squadra inglese Newcastle è stata oggetto di forte opposizione da parte dello stato del Qatar il cui fondo sovrano nomina il canale BIN che sponsorizza la trasmissione delle partite della Premier League inglese durante la crisi diplomatica del golfo così accordi di investimento pubblico nello sport mondiale è entrato a far parte dei conflitti politici tra i leader del golfo Qatar e l'Arabia Saudita il cui sfrotto ha contribuito al completamento dell'accordo di Newcastle di fondo investimento pubblico saudita allora in effetti molti osservatori ritengono le strategie di investimento del fondo sovrano saudita si basino sull'assunzione di rischi e sull'impegno in ambiti non classici vede l'inter questi accordi sportivi hanno anche rafforzato la competitività dei sovrani del golfo da un lato e consolidato il loro coinvolgimento nel mercato sportivo internazionale con condizioni giuridicamente vincolanti per la non interferenza degli stati del golfo e la neutralità politica nella gestione dei club europei quindi 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 ora andate da questi signori date gli di cialtroni come avete dato a noi questo è un centro studi ok questo è un centro studi che non ha cioè questi non sono insider questo è un centro studi e parla di fatti concreti di cose concrete anche perché non avrebbero mai potuto dire una cosa senza una smentita nessuno li ha mai smentiti e l'articolo è uscito 40 giorni fa non c'è stata nessuna smentita quando parli di quei signori là devi stare attento non puoi dire hanno un prato l'inter così un centro studi famoso ma è questo e da quell'altra parte nessuno parla e nessuno smentisce non c'è nessuna smentita come te lo ripeto alla drennan ci sono arrivate 700 e mele ma non c'è nessuna smentita non c'è nessun ufficio legale che ha detto che noi non c'entriamo nulla perché noi abbiamo detto la verità ecco perché dall'ufficio legale della drennan che ha ricevuto 600 e mele non c'è stata una dichiarazione ora ora per i giornalisti italiani qualora vi facesse voglia qualcuno ve lo dico lo sta già facendo qualcuno molto umile e importante qualora vi facesse voglia di telefonare a questi signori e di chiedergli chi ve l'ha detto a voi che qui fa comprato l'inter non ho visto scritto gli americani hanno comprato l'inter qui parlano di arabi che hanno acquisito l'inter è un articolo di ottobre 2022 fai che il center fai che il center fai che il center quindi ora invece di dire fantafinanza la fantafinanza è inutile tu parli di fantafinanza e poi ci chiami ci chiami per sapere informazioni su pifo parlo in generale perché ci hanno contattato tanti giornalisti e vi dirò di più noi abbiamo chiuso tanti giornalisti perché poi dopo strumentalizzano al loro piacimento le cose che tempo fa qualcuno di noi ha provato a dirmi con tutto rispetto per l'altro per la categoria che io stimo molto io stimo chi lavora soprattutto ho ragione o no vieni qua saluta il pubblico digli digli fai che il center fai che il center salutali saluta vai vai ragazzo vai a divertirti ci siamo capiti o no ci siamo capiti oppure no fai che sente dove sono questi americani chi qua la fantafinanza è parlare di una di dire di discutere un bond che affosserebbe definitivamente questa società che la porterebbe al fallimento cosa vuoi discutere se non hai soldi da mettere sono queste le fantafinanze che vengono dette al giro zang rimane questa è fantafinanza dire zang rimane all'inter è fantafinanza perché ci dovete spiegare voi esperti che scrivete sui giornali importanti come può lui mantenere una continuità aziendale e ci dovete spiegare voi esperti del settore chi amministra l'inter come può amministrare una società in queste condizioni ovviamente parlo del debito senza fare un piano di rientro e senza mettere un tetto in gaggio a tre milioni e mezzo quattro altro e sette milioni a scrignal sette a lautaro cinque a sei a barella sette a brosovic che dovevi vendere quattro giocatori quest'anno per andare avanti con le spese vive di cosa vogliamo ragionare dovete dire la verità ai tifosi dell'inter ora basta fai che è sempre dai ciao 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 ciao